Da tempo Suzuki impegnata nel Google Lunar XPR i Z e una sorta di concorso lanciato dal colosso di internet che premier con 20 milioni di dollari il primo consorzio che mander sulla luna un rover in grado di percorrere 500 metri e trasmettere video e fotografie ad alta definizione. Siccome l'appetito vi è mangiando la casa giapponese raddoppia il proprio sforzo nella corsa allo spazio finanziando eSpace, societ privata il cui scopo ha quello di organizzare missioni lunari e che G nel 2020 vorrebbe effettuare due viaggi spaziali. Suzuki finanzia un progetto per andare sulla luna soldi e tecnologia l'impegno di Suzuki nei confronti di eSpace non unicamente economico ma anche tecnologico. La casa di Yamamatsu infatti mette a disposizione anche la sua esperienza nel mondo della trazione integrale, con il sistema 4W di ALLGRIP e nello sviluppo di materiali leggeri. COS facendo Suzuki punta a ottenere nuove competenze su tecnologie da applicare sui modelli di domani, approfittando anche della consulenza dei tecnici di eSpace. Dalla Terra alla Luna l'intento di eSpace, che fino ad ora ha raccolto finanziamenti per circa 90 milioni di dollari, consiste nell'organizzare due missioni differenti nel 2019 e nel 2020. La prima AVR è lo scopo di portare un modulo in orbita lunare e raccogliere quante più informazioni possibili. COS da poter organizzare al meglio la seconda missione. Che porter due rover sulla superficie della Luna. Secondo le previsioni di eSpace nel 2040 il nostro satellite SAR stabilmente abitato da circa 1.000 persone, con all'incirca 10.000 turisti all'anno.